benvenuti in fly to pulia to be home quest'oggi siamo a las vegas situata nel deserto del mojave in nevada las vegas ospita una delle sedi dell'iconico franchise italo americano carlos bakery che da più di 100 anni condivide negli stati uniti la tradizione culinaria italiana e da qualche tempo non si limita più alla sola pasticceria ma anche al mondo del salato così come carlos bakery svolge un importante funzione nel connettere e condividere la cultura italiana con quella statunitense anche il progetto fly to pulia to be home vuole creare un ponte fra italia e stati uniti ottenendo così un turismo di ritorno in puglia inoltre oggi andremo a casa di mauro belgiovine che ci racconterà la sua storia mentre prepara della deliziosa mozzarella fatta in casa ma adesso andiamo a scoprire quali delizie offre pizza cake ciao 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 a tutti i namei Drew i uh we're here at Pizza Cake Las Vegas and always had a dream to go to Italy big inspiration from my boss tomorrow I wanna go to Portia a bit of dream of mine and I wish to go this is my figure right here e 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 qui siamo pronti per fare la mozzarella mozzarella pugliese questa e Mauro per forza sarebbe uno strano quindi cominciamo con me mettendo l'acqua bollente all'impasto allora si comincia a squagliare ma oggi che festività è qui in America? qui in America abbiamo il giorno del ringraziamento il Thanksgiving e questa mozzarella doveva finire questa mozzarella oggi? nella nostra epoca a casa di amici o? si portiamola a casa degli amici per festeggiare allora Mauro con questa mozzarella oggi dove ci fai viaggiare? ritorniamo nelle nostre radici la bella Puglia dove tutto è iniziato il nostro viaggio da quanti anni manchi dalla Puglia? ecco sono cinque anni che mando dalla Puglia allora nel lavoro nel lavoro della mozzarella uno si dà conto che ha bisogno di più acqua è un lavoro fatto con le mani ma anche con il cuore giusto? perché ti colleghi proprio a tanti anni fa da quanti anni fai questa mozzarella? eh sono come 30 anni sono 40 anni 30 40 sono parecchie volte sono più di 40 anni che fai la mozzarella come vuole il tempo come vuole il tempo aspetta anche questo video è giunto al termine continuate a seguirci ci rivediamo in un prossimo video di fly to Puglia to be home